Siamo con il professore Salvatore Bordonaro, docente del liceo Giovio di Como, per un aggiornamento sulla complessa situazione scolastica nel pieno di una ennesima zona rossa. Qual è la situazione sul territorio? Direi che le sofferenze a questo punto sono tantissime. La testimonianza più evidente sono le tante manifestazioni che ormai si stanno susseguendo, nonostante limitazioni di vieti in tutta Italia. Manifestazioni che hanno coinvolto studenti, famiglie, insegnanti, tutti quanti a chiedere una ripresa in presenza per un ritorno alla didattica tradizionale. Diciamo che questo anno non è stato utile per colmare quel divario tecnologico che c'era soprattutto negli studenti che hanno una provenienza più caratterizzata da difficoltà economiche, di attrezzaggio, eccetera, in ambito familiare. Nonostante da questo punto di vista molte scuole si siano rese disponibili per dare supporto anche tecnico. Ma l'aspetto direi ancora più importante è che la DAD ha manifestato tutti i suoi limiti, nonostante anche in questo caso l'impegno degli studenti, l'impegno delle famiglie, anche l'impegno del corpo docente nel gestire questa modalità didattica. Il governo Draghi è insediato ormai da diverse settimane. Secondo lei vi è stato questo auspicato cambio di passo rispetto al precedente o si naviga ancora a vista? Beh, di sicuro sostanzialmente, come dire, stiamo davvero attraversando una stagione particolarmente problematica dal punto di vista della gestione dell'emergenza pandemica. Una stagione che poi, come dire, si caratterizza anche per le innumerevoli difficoltà che si stanno in qualche modo misurando attorno a chi dovrebbe in qualche modo gestire l'emergenza stessa e il piano delle vaccinazioni. La notizia di oggi è di questa clamorosa caduta del governo regionale siciliano, l'alterazione dei dati, adesso vedremo sostanzialmente cosa verrà fuori dalle varie inchieste, eccetera. Quello che è evidente è che praticamente, come dire, c'è stata molta leggerezza a livello politico nell'affrontare l'emergenza pandemica e credo praticamente che ne stiamo piangendo anche le conseguenze. Qui a livello Lombardo le difficoltà dell'organizzazione del piano vaccinale sono sotto gli occhi di tutti. Io non aggiungerò niente di più a quello che riferisci anche tu con Televalassina nella vostra cronaca regionale, provinciale, locale. Siamo davvero di fronte praticamente ad un'emergenza che da questo punto di vista non viene affrontata praticamente, o perlomeno non viene affrontata in alcuni ambiti come meriterebbe. Subito dopo Pasqua si parla di un rientro in presenza dei ragazzi delle elementari e della prima media con test Covid a tappeto all'ingresso della scuola. Secondo lei è una strada percorribile? Ma qui siamo patente ancora alla politica degli annunci, nel senso che riaprire le scuole per me sostanzialmente, personalmente penso che sia sicuramente un segnale molto positivo. Ho molte perplessità rispetto alla possibilità di poter attuare un piano di monitoraggio fatto da prelievo di tamponi massiccio sulla popolazione scolastica. Tenete conto che siamo di fronte ad una realtà che è frammentata in tante unità scolastiche tra sedi centrali, plessi, eccetera, specialmente se parliamo della scuola dell'infanzia, se parliamo della scuola primaria, se parliamo praticamente poi della prima classe del ciclo della secondaria di primo grado. Quindi sinceramente questa cosa genera parecchie perplessità. D'altra parte mi tranquillizza il fatto di sapere che un buon contingente di insegnanti praticamente è stato già sottoposto a vaccinazione e questo dovrebbe in qualche modo configurare una situazione in cui in qualche modo le possibilità, il rischio di una diffusione del contagio possa essere decisamente molto più limitato che non nel passato. Temo invece che la scuola secondaria superiore e le classi più alte della secondaria di primo grado, quindi la seconda media, la terza media e poi tutte le classi degli istituti secondari superiori, temo che finiranno in DAD praticamente all'anno scolastico. Il fatto stesso che sia stato configurato un esame di Stato con le caratteristiche sostanzialmente identiche a quelle dell'anno scorso, mi dice che probabilmente c'è molta più preoccupazione in coloro che hanno la responsabilità di gestire queste questioni, c'è molta più preoccupazione per la diffusione del virus nelle popolazioni in età scolastica più adulta. Ricordiamo che le date degli esami di Stato sono già state fissate, quindi l'ipotesi di prolungare le lezioni fino a fine giugno è tramontata. Sì, fondamentalmente il 16 giugno iniziano le prove dell'esame di Stato, se le scuole saranno impegnate nelle settimane successive sicuramente sarà per corsi di recupero, interventi a sostegno degli alunni più fragili. Una scuola quindi che in qualche modo dà supporto alle situazioni più in difficoltà. Già prima non riuscivo a immaginare una scuola funzionante anche nel mese di giugno, a maggior ragione praticamente nella condizione pandemica in cui siamo e in cui penso resteremo ancora per qualche tempo, anche se in misura attenuata. Tornando alle vaccinazioni, come ha risposto il corpo decente lariano? Beh, da quello che, perché non ho dei dati, come dire, non mi sono stati consegnati dei dati in esclusiva, quindi anch'io faccio riferimento a quello che apprendo dalle cronache, dai media eccetera eccetera. Mi pare che sostanzialmente la risposta sia sufficientemente adeguata, nel senso che il corpo docente nel suo complesso ha risposto positivamente, dobbiamo sempre tener conto praticamente di quel margine di soggetti ansiosi, non parlerei di veri e propri atteggiamenti novax perché personalmente per esempio non ne riscontro nella mia categoria e penso che ci siano più che altro delle perplessità da parte dei soggetti che sono predisposti ad un approccio più ansioso a questo tipo di problematica. Però devo dire anche sulla scorta dei resoconti di chi ha già fatto il vaccino, siamo nel pieno praticamente di quanto indicato anche nelle guide che accompagnano la somministrazione di questo vaccino, gli effetti collaterali sono tutti dentro la gamma degli effetti ampiamente previsti. Ti dirò una cosa, questa è un'esperienza personale, nel senso che aver già avuto la prima dose per molti versi restituisce molta serenità praticamente, il nostro approccio all'ambiente di lavoro perché voglio ricordarlo noi siamo in presenza, non ci sono gli studenti ma noi nelle scuole secondarie superiori siamo chiamati a presenziare presso i nostri luoghi di lavoro, ti dirò che riesco ad essere più tranquillo, ero molto più timoroso praticamente nelle settimane passate ma da quando ho fatto la vaccinazione mi muovo più tranquillo. Ovviamente senza rinunciare ai presidi di protezione individuale, quindi mascherina, quindi sanificazione delle mani, attenzione praticamente a mantenere il distanziamento ma con questa diciamo marcia in più costituita da quel nucleo di anticorpi che già è presente praticamente nel mio organismo. Secondo lei questi due anni scolastici in DAD peseranno sul futuro scolastico dei nostri ragazzi? Io sono convinto che abbiamo, come dire, perso delle occasioni soprattutto in termini di riorientamento degli studenti che in questi due anni per aver vissuto l'accesso alla scuola secondaria superiore hanno mostrato delle difficoltà. Negli anni passati sicuramente saremmo intervenuti anche con delle manovre di riorientamento verso altre tipologie di studio. Un po' le direttive che sono arrivate per la conclusione dell'anno scolastico e le direttive che secondo me arriveranno nella previsione della conclusione di questo anno scolastico, di fatto praticamente, come dire, aprendo le porte alla classe successiva, a tutti i soggetti ci impediranno, come dire, in qualche modo di attuare questa operazione di reindirizzo. Io da questo punto di vista mi rivolgerei più che altro alle famiglie per dire, guardate, se i vostri ragazzi hanno avuto delle difficoltà in questo anno scolastico, delle difficoltà che non si sono tradotte praticamente in una bocciatura o semplicemente nell'assegnazione di molti corsi di recupero, tuttavia non sottovalutatele queste difficoltà e se è possibile fateci una riflessione nella prospettiva di un riorientamento, perché questo è mancato nel sistema scolastico, il riorientamento non si è proprio fatto o si è fatto in misura molto limitata. Questo sì che può condizionare l'avvenire, perché con il ritorno ad una didattica in presenza, questi alunni sicuramente soffriranno per delle difficoltà che probabilmente saranno difficilmente colmabili. Ringraziamo il professor Salvatore Bordonaro e ci auguriamo di averlo ancora ospite nei nostri studi per futuri aggiornamenti sulla situazione scolastica lariana. Sono io che ringrazio voi che avete così tanto impegno nel tenere destra l'attenzione alla discussione in questo ambito importante della nostra società. Grazie ai tuoi telespettatori.